nella puntata introduttiva ho citato il google home se non lo conosci è uno di quegli aggeggi che si mettono in casa e può tra le varie cose comandare gli elettrodomestici moderni come ad esempio le luci il termostato i prodotti eco di amazon sono praticamente la stessa cosa ma di un altro produttore di amazon appunto ma cosa c'è dietro il dispositivo che mettiamo in casa semplicemente l'assistente vocale del produttore di turno nel caso della famiglia google home c'è assistant ed è proprio lo stesso che si trova sui cellulari android per eco invece c'è alexa nell'ecosistema apple c'è siri e su windows trovi cortana ma dietro l'assistente qui la faccenda si fa delicata ci sono dei potenti computer chiamati server che compongono la cosiddetta intelligenza artificiale ed è proprio quest'ultima a rispondere alle domande essa si nutre dei dati e delle ricerche degli utenti per potersi affinare e migliorare giorno dopo giorno personalmente ho in casa un google home ma conosco persone che non ne vogliono sentire parlare per motivi di privacy e in effetti questi dispositivi restano in perenne ascolto in attesa di sentire il trigger cioè la parolina magica che ne permette l'interazione amazon stessa ha ammesso che ha diversi team di persone dedicati all'ascolto e che questo le consente di riuscire a migliorare la comprensione e le funzionalità di alexa e anche google nel 2019 ha ammesso di fare lo stesso ma quindi la privacy è a rischio la risposta sarebbe nì per vari motivi innanzitutto queste aziende tramite le loro app già sanno più o meno tutto dei propri utenti e in nome della privacy dovremmo tutti iniziare a eliminare tante applicazioni per non dire dire direttamente lo smartphone e non solo un altro motivo sta nella sicurezza dei dati se la nostra preoccupazione è che cadano nelle mani degli impropriamente detti hackers dobbiamo fidarci di queste aziende da anni trattano i big data e prendiamo per buono che abbiano strutture ben protette e sotto monitoraggio continuo e a pensarci bene sì affidare i nostri dati è veramente un atto di fiducia che facciamo già quotidianamente e inconsciamente ma di questo parleremo in un'altra puntata tornando a parlare degli assistenti la domanda rimane sono utili a oggi di consigli convinto e incondizionato solo un paio di anni fa li trovavo inutili e sinceramente rimanevo perplesso per l'entusiasmo provato dalle persone a parlare consigli io non ne capivo proprio l'utilità ho cominciato a comprenderla con l'avvento di eco e di google home usare la voce per comandare degli oggetti mi sembrava una cosa già più sensata e degna di nota sugli smartphone invece l'ho capito quando ho visto mia madre usarlo per fare delle semplici ricerche su google trova ciò che le serve in un attimo ho compreso che su uno smartphone non è inutile semplicemente è una cosa che non fa per me io ad esempio le ricerche continuo a farle digitando ma ora mi è chiaro che per una fetta di utenti usarla ricerca vocale sia una cosa più immediata veloce e intuitiva a volte capita di valutare una cosa solo in base alle proprie esigenze senza guardarla in un contesto più ampio ed è proprio l'errore che ho commesso io oggi anche i sistemi multimediali delle auto sono compatibili e perfettamente integrati con gli assistenti vocali la praticità di questa implementazione direi che è scontata basti solo pensare alla maggiore sicurezza che si può avere nel far partire una telefonata riprogrammare il navigatore o appuntarsi un pensiero senza dover togliere le mani dal volante o doversi fermare e io io gli assistenti vocali li uso per accendere le luci sentir le ultime notizie mentre sorseggio il caffè mattutino impostare timer mentre cucino e ascoltare musica un uso sicuramente ridotto rispetto alle sue enormi potenzialità nativamente o tramite un sistema chiamato IFTTT e lo pronuncio all'italiana è possibile anche personalizzare le risposte a determinate domande è una funzione che può risultare molto divertente IFTTT però non è solo questo permette soprattutto l'integrazione di servizi che tra di loro non sono nativamente compatibili e ti lascio il link nelle note su tecnoriflessioni.com per questa prima vera puntata direi che è tutto e non mi resta che salutarti e lasciarti alla citazione del giorno un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi ma mai nessuna di esse potrà porne uno Albert Einstein ciao